La più grossa? Essere tanati dalla mamma mentre ti si masturba davanti alla tele. Cosa? Vuoi dire che la tua mamma ti ha beccato mentre ti stavi masturbando? Non io, mio fratello. Ciao, regà! Fra! Vai, la grande. Adesso sai come andiamo a festeggiare? Ce ne andiamo, soli, soli. Sì, amore, andiamo. Eh no, voi restate qui. Vabbè, ma allora siete tutti scemi. Allora facciamo questo brindisi al nostro nuovo agente immobiliare e alle nostre ex mamme. Quali ex mamme? Casomai future mamme. Amore, dopo quello che è successo ho capito che avevi ragione tu. Adesso non è il momento. Però prima o poi arriverà. Basta che me lo fai sapere.